Grazie ad un accordo fra la Regione Basilicata e il Governo della città di Buenos Aires, nella capitale argentina sta per essere inaugurato, in una casa di riposo, uno spazio dove 15 anziani indigenti di origine lucana potranno soggiornare gratuitamente. È solo l'ultima delle tante iniziative delle associazioni lucane in Argentina, che ora chiedono alla Regione iniziative rivolte ai lucani di terza generazione, come spiega Vito Santarsieri. In Argentina abbiamo una trentina di associazioni che stanno sotto l'ombrello della federazione e si elabora, se veramente la italianità, la Basilicata la portano tutto nel cuore, stiamo trattando di inserire ai tutti i giovani ancora, però come l'Argentina politicamente sempre va un poco su, un poco sotto, un poco su, qualche volta no, ci costa e ora vogliamo chiedere, stiamo a chiedere alla Regione un aiuto, per questo per i giovani, per fare questo scambio culturale, per venire all'università. Grazie a tutti. Grazie.